Oggi vi propongo una sfida da veri pro player oppure da veri sciopponi dipende da che tipo di giocatori siete Infatti andremo ad utilizzare soltanto e dico soltanto i brawler con l'abilità stellare per vincere tutte le modalità di Brawl Stars Esattamente andrò a scegliere Jesse il primo, Corvo, Shelly e... Colt che non ha l'abilità... oh mamma mia non c'ho l'abilità stellare di Colt Pam e Brock esatto stanno aumentando davvero tantissimo i miei brawler con l'abilità stellare perché sto... ecco... Ho scioppato un pochino durante questi mesi però sono anche migliorato ve lo giuro eh Ciao Angela Strano benvenute tra gli abbonati leggendari di Mattiz Guarda ti faccio salutare anche da il nostro amichetto Willy Ciao E non finisce qui se le cose le dobbiamo fare le facciamo per bene infatti ci sarà un premio in palio se riuscirò a completare questa sfida Guardate il video fino alla fine perché visto che si parla di abilità stellare il premio di oggi sarà quello Di sbloccare un'abilità stellare e nel negozio abbiamo quella di Brock e quella di Colt Io in realtà visto che non ho quella di Colt ancora quindi ho Colt a livello 9 ma non ho l'abilità stellare Forse sono già quelle prendere ma deciderò durante il video ovviamente supportato dalla skin di Mattiz Eh esattamente c'è ancora il link in descrizione ovviamente del mio negozio con tutte le felpe più fighe del mondo Se siete abbonati oltre ad entrare nel club MZ Premium avete la possibilità di avere dei codici sconto per le felpe nella sezione community 3, 2, 1, sopravvivenza alla prima partita Ah no devo cambiare brawler fermi Iniziare un video con solo abilità stellare Senza abilità stellare non è affatto buona come cosa Io in sopravvivenza sapete chi scelgo ma lo volete proprio sapere Ah cercherò di usare tutti i brawler diversi eh Questa era una particolarità che mi ero dimenticato di dirvi Io in sopravvivenza me la voglio giocare molto tranquillamente con la mia Shelly E l'abilità stellare sciocca al piombo che ralenti i nemici quando li colpisco con la super Signor Mattiz Buona fortuna Soltanto se riuscirò a vincere tutte quante le modalità disponibili tranne assedio Quella non c'ho voglia di farla perché la odio Riuscirò a sbloccare l'abilità stellare di Colt eh Quindi mi raccomando concentrazione Allora ci siamo capiti male Io decimo non ci arrivo manco se Manco morto ci arrivo ok Siamo partiti malissimo L'importante è essere vivi però giusto E colpire questo povero Aspetta aspetta che qui gli facciamo molto male Gli facciamo molto male let's go Let's go Ha usato la super ma sono sopravvistuto 5 gemme E qui si punta la top 3 ve lo dico Ve lo dico qui dobbiamo spaccare tutto Allora c'è una pam che spara E che potrebbe fare una brutta fine Guarda che l'ho rallentata con l'abilità Eh raga l'abilità stellare è forte eh Dopo che Cerotti è stata depotenziata L'abilità che rallenta mi piace un botto Mi gusta Non capisco ogni tanto perché mi viene da parla spagnolo Ma capitemi Cioè sono un po' stupido Anch'io guardalo che non la rallento pure No raga è illegale È illegale Top 5 per noi e stiamo spaccando letteralmente il mondo Siamo pronti a prenderci pure l'universo tra poco Guardali quelli che combattono lì sopra Aspetta che magari qui c'è qualcuno C'è spuglio Pam Pam Il colpo Vai spacchiamogli subito questa Ricarichiamo i colpi Raga 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 Ho portato al suicidio Pam Ma non ci può Non è vero Non sono morto Fidatevi Fidatevi No raga No ragazzi Ragazzi questa è È l'illegalità di Shelly Fatta in partita Non ci sto credendo Che partitone stiamo facendo E tra l'altro non gioco da No vabbè in realtà non gioco da prima Scherzavo Però comunque Oh sto giocando bene Dai così Una condivisione per Mattiz Che sta per vincere Ha vinto Raga Mattiz ha vinto Raga Mattiz ha vinto Raga Mattiz Ha ufficialmente Preso la prima posizione Con L'abilità stellare Di Shelly Più 10 trofei per noi What E questi ce li portiamo tutti a casa Ve l'ho detto che oggi non si scherza Quando c'è un premio in palio Sono sempre gasato Siamo ancora lontani dal nostro colt Perché ci dobbiamo andare a giocare In questo momento La modalità rapina Eh sì Ci dobbiamo giocare proprio questa Eeeh Quanto è larga sta mappa Penso di sapere chi utilizzare Mi sa proprio che il brawler Che andremo a usare Sarà Brock McQueen Con la skin bellissima E l'abilità stellare Quarto potere Che ci fa sparare Quattro colpi Semplicemente Eeeh Abilità stellare Semplicissima Ma fidatevi Devastante Inutile che ve lo dica Guardate Nella barra arancione Dei colpi Ne ho quattro Posso sparare quattro missili insieme E Ci hanno letteralmente Devastati Sta cosa non è buona Raga Oh Che è Che è sta situazione Fermi tutti No vabbè pure la torretta Raga ci stanno spaccando Dove sono i miei alleati Mori Oh Killata Ebbè ma Ci stanno spaccando Non ci credo Non ci credo Non posso permettermi di perdere ora eh Non ce lo possiamo assolutamente permettere Vado a dare un colpetto a Dynam No niente 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 Spacchiamola Eh vabbè Qui i quattro colpi si fanno sentire Anche se in realtà hanno sparato i tre E oh raga Qua bisogna pushare Bisogna Sono morto Sono morto Ho sprecato pure la super Mmm Sta situazione è complicata eh Vieni qua Non facciamoli avvicinare Vieni qui Ok Ci becchiamo No ragazzi Ci hanno chiusi Ci hanno letteralmente chiusi Non riesco ad attaccare Questi ci sfondano Ci sfondano No 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 I miei alleati attaccano ma Eh ma ora ci fanno fuori loro Ok Ora Ora O pushiamo ora O mai più ragazzi Preparo questo Sparo La massima potenza Tipo kamikaze Ma Gli abbiamo tolto poco Eh questa mi sa che è persa Eh no Sconfitta per noi Ai 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 Sconfitta subita Non me l'aspettavo Ragazzi Stavo per dire Scegliete l'abilità di Brock Che non perdete manco una partita Ho fatto una figuraccia spaventosa E a sto punto io Mi metterei Visto che Contro di noi è stata devastante Io mi metterei Jesse Con l'abilità stellare però Sì mettiamoci Lattina energizzata Praticamente In due parole I colpi Che spara la torretta Rimbalzano come i colpi Di scegli normale Capite Ora Lo capirete ancora meglio Comunque Raga Ci sono rimasto male Ci posso dire Non ci posso fare niente Eh Allora Stiamo molto attenti Gestiamocela come faceva La scegli contro di noi Che praticamente Sparava da questa angolazione E poi buttava le torrette E ci Ci rompeva Tutto quello che avevamo Tutte le ossa Del povero Brock E Ucciso Ah Abbiamo fatto sprecare la cosa Buttiamo questa qui Ora loro spareranno Guardate Guardate i colpi Che rimbalzano Praticamente I colpi rimbalzano Come quelli della mia scegli Solo che La torretta non ha 50% 50% di danno L'abbiamo dimezzata già Mamma me lo potevate dire Prima che bastava usare Jesse Brock Lo prendo io Ho di nuovo la torretta Che metto qui Leon Poverino sta pushando da solo Ma senza capire che Gli ho devastato No raga Raga questa partita è nostra Vedete Ogni volta che la mia torretta Colpisce Brock Poi va sulla cassa E quindi Devasta tutto Praticamente Fighissimo Becchiamo sta Penny Che muore Eh ma questo mi fa fuori Pure a me ora Vabbè comunque L'abbiamo danneggiato un po' 7% La princess La princess a destra Attenzione sulla faccia Attacca la princess 3% Basta un altro colpo Della princess E siamo pronti a scrivere La storia Ma che vuole questo Ma vai a pushare la cassa Da solo 2% 1% No Eh no Eh no È l'1% No eh Ragazzi siamo bloccati All'1% Salutate la cassa Bye bye Soldato Mattiz Si aggiudica anche questa Brock purtroppo Ha fatto una figuraccia Prima E quindi forse Non scioperò la sua Abilità stellare Ma adesso Siamo da come vi avevo detto I migliori di sta partita Devastati Eh già mio caro Brocchetto incendiario La sua abilità stellare Incendiario è devastante Ma mi sa proprio Che non è il tuo giorno Ora invece Ce ne andiamo In un footbrawl La mia modalità preferita Con Eeeel Primo E potremmo usare E allora Io in genere uso Quella di El fuego Cioè Se colpisci il nemico Con la super Gli dai fuoco Mentre Sprint fiammante Però è divertentissima Da usare in footbrawl Perché Una volta che usi la super Per i prossimi 4 secondi Vai più veloce Corri più veloce Quindi io prenderei questa E correrei diretto in porta Spero davvero che questa Strategia funzioni Eeeel Ho messo pure il primo Versione re Quindi se perdiamo Facciamo davvero una figuraccia Eh già Allora Loro si sono chiusi in difesa Solo che se io pusho Muoio Quindi mi tocca restare Così Allora Arriva Shelly Gli possiamo dar fastidio Posso dare una mano a qualcuno Non so dove mettermi Via da qui Bravissimo Eugenio Mamma mia Gli ha annullato la super Va che lo colpisco io Ciao bello Allora sono pronto eh Sono pronto Guarda che sono morto Guarda che sono Guarda quanto corro veloce No Raga l'ho salvato all'ultimo Il problema è che corro solo per 4 secondi Infatti Jeffy Sono morto Mamma mia raga Ci stiamo salvando con una cosa Indescrivibile Allora gli diamo la palla Corriamo Prendiamo la palla Guardate quanto vado veloce Eh ma non riesco Da solo il tiro Vabbè oh ci ho provato comunque Quella è la strategia che voglio usare comunque Ora però siamo attenti che per fare sta strategia Ora questi ci tirano in porta No attenzione a Frank Bella combo Perché le partite che do per scontato vinte Con i brawler che voglio io Le perdo Me lo spiegate Ora però Concentriamoci perché non è ancora finita Frank ha sprecato la sua abilità Io vado ad aiutare il mio Eh ma non mi tirate la palla addosso ora Dai Via Via da qui 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 Ok Facciamola andare da solo a Frank Vai Non fatelo tirare No Io non mi merito nemmeno Nemmeno Di scioppare l'abilità stellare di Colt Lo sapete? Non so che dirvi Mi gioco Corvo In footbrawl Il mio Jolly me lo metto in footbrawl Che non è la sua modalità preferita Però Vabbè Ragazzi Ma che fanno? Non giocano questi? Ragazzi non stavano giocando Dai che entriamo in porta così No vabbè Non è riuscito a segnare Eh Gli ho fatti fuori tutti Non lo so Cioè Ho fatto la tripletta di uccisioni 1 a 0 per noi subito così Sto utilizzando l'abilità stellare Che toglie il doppio del danno Credo Il 25% in più del danno Quando i nemici hanno la metà della vita Avete visto che la barra dei nemici è viola Quando hanno metà della vita Ragazzi ma Ma che Manco il tempo di riscrivere l'abilità stellare di Corvo Che ho vinto Vabbè Che vi devo dire? Meglio così Nel senso Ok Va bene Comunque vi spiego un attimo Quell'abilità di Corvo Che è quella appunto Di togliere il doppio del danno Quando i nemici hanno la barra della vita viola Che significa Che hanno meno del 50% della vita Una cosa tutta matematica strana Ma fidatevi che Troppo forte Davvero troppo forte Ci siamo portati sopravvivenza Dovrei fare Stella solitaria E raffa gem Ma sinceramente Io stella solitaria Non la voglio fare Ma devo prendere Il gettone stella Quindi è importante Raffa gem E mi sa che io ti lascio stare Perché quattro modalità Bastano e avanzano Sinceramente Non so Quanto possa essere utile Pam in stella solitaria Il problema è che Ho utilizzato tutti i brawler E quindi voglio rispettare Il patto di utilizzarli Davvero tutti E manca soltanto Pam E mi tocca usarla qui Ho messo l'abilità stellare Che In cui la sua torretta Infligge danno Quindi oltre a curarci Infligge pure danno Io ora Devo stare attento A sta Ems Che ci sta letteralmente Devastando Solo che noi siamo Più forti di lei Ora Quindi spariamo Eh no Ci hanno rubato la kill Muori per favore Ole Ok Ok Una è andata 3 di 10 Dai 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 Obiettivo top 4 Top 4 E l'obiettivo in cui E prendiamo il gettone stella Ecco siamo quinti Alla grande Ci buttiamo direttamente In mezzo al campo Ciao Dynamike Come va? Tutto bene? Ciao bello Allora buttiamo questa qui Che infligge danno ad Ems Bellissimo Non è che sia molto utile In realtà eh Perché il danno Lo infligge ovviamente Solo quando sono Nell'area della torretta E questo E questo non mi permette Di fare molto danno Però se io magari Mi mettessi qui Gli avversari si avvicinano Non si ricordano Che c'è l'abilità stellare Che infligge danno E io non riesco a uccidere Quella a 400 di vita Allora me ne metto Un'altra qui Un'altra qui Che mi permette di Hittare sta Ems Che non muore Guardalo Guardalo Eugenio Ora muore E ragazzi La torretta ha funzionato Siamo secondi Let's go Colpiamo ancora Ems E avvicinati a sta torretta Ragazzi tutti pushano La mia torretta Spaventosa sta cosa Spaventosa Mi hanno fatto fuori La torretta Aiuto Non posso vivere Senza torretta Ok Ne ho un'altra Ne ho un'altra Sono primo? Che cosa? Ragazzi Sono primo Non so manco io perché Non so manco io perché Uccido 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 Tutto il mondo Non a caso Sto indossando qualcosa Di ultra overpower Però questi sono dettagli Altri più 10 trofei Per noi Io sinceramente Sono soddisfatto così La Epic vuole continuare A farmi sciopare Eugenio Ma non lo sciopperò E invece Mi sono meritato Anche se non ho giocata La grande Il Magnum special Di Colt La sua abilità Spestellare Che cosa fa? La velocità dei proiettili Aumenta dell'11% Può sembrare una cavolata E probabilmente Cioè Non lo so in realtà So solo che L'ho appena scioppata E la voglio provare Ovviamente Eccolo qui Colt Con Magnum special Ce lo proviamo ovviamente Nell'ultima modalità Che manca Raffa gemme Tutto calcolato Non ve l'aspettavate Dai così Per favore Tu stecca gioca Che ho bisogno di te Vediamo se Si nota Questo danno in più Di Colt Praticamente I colpi Sono più rapidi Di conseguenza Dovremmo riuscire A prendere i nemici Più facilmente Perché il co Eh in effetti In effetti Non so se Questo è stato un caso Però i colpi ai nemici Arrivano super velocemente Guardate li becco tutti Questo perché ovviamente La traiettoria dei nemici Non si Cioè non si riescono a spostare Capito La traiettoria è più veloce Tipo A questo povero Dynamike Lo devastiamo Spariamo lì A 100 di vita Ciao Dynamike Ragazzi sto devastando tutti Ora non so se è un caso O se è Stabilità stellare Davvero devastante Comunque spero che questo video Possa esservi utile Perché ho spiegato Tutte le abilità stellari Che ho Quindi per le persone Che tra poco Sbloccheranno O hanno già sbloccato Le abilità stellari Ecco Questo video Secondo me Può piacervi molto Diciamo che Oltre a fare le sfide divertenti Cerco anche Di spiegarvi Le poche cose Che so bene Di questo gioco Vabbè no Diciamo che A distanza di due anni Lo capisco abbastanza bene Che ne pensate Solo che noi stavamo vincendo Abbiamo perso Così Giusto per dirvi una cosa Vedete quando mi perdo In chiacchiere Che succede Succede che questi Li sfondo Abbiamo perso Abbiamo perso Ci credo Ci credo Ci credo Ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Ucciso Ucciso Con la connessione Che se n'è andata Fermi Eh vabbè Vabbè abbiamo altri 15 secondi Adesso per recuperare di nuovo Ma non ci sto credendo Dai L'ho riuscito a uccidere Pamp muori Pamp muore E ragazzi ancora noi Raga stiamo salvando La vita Il problema è che Li riprendono sempre loro Ah Che rotura Vieni qua Vieni qua Eh no Stavolta non ce la facciamo Raga Stavolta non ce la facciamo Purtroppo Oh Eh io dopo che V'ho salvato due volte Se voi non contribuite È inutile Se 17 a 0 Facciamo finta di niente Ciao ciao Ricordate di non perdere Tutti gli altri video Di Brawl Stars Che sicuramente Non avete visto Abbonatevi per diventare Abbonati epici E leggendari di Mattiz Ovviamente Ed entrare nel club Di Brawl Stars E ricevere sconti Per il merchandising Seguitemi su Instagram Ciao 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 Ciao